Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 16 settembre. Oggi la Chiesa ricorda i santi Cornelio e Cipriano. Cornelio fu Papa, Vescovo di Roma, Cipriano fu Vescovo di Cartagine nel III secolo. Entrambi improntarono la loro azione pastorale e il governo della Chiesa alla misericordia e accolsero, ovviamente imponendo loro una congrua penitenza, i cristiani che durante la precedente persecuzione avevano apostatato. Per questo si scontrarono con coloro che non volevano accettare questa linea misericordiosa. In particolare a Roma il prete Novaziano si oppose a questa linea misericordiosa con la sua intransigenza e diventò antipapa. Cornelio e Cipriano morirono entrambi martiri durante la persecuzione di Valerio e per questo motivo la loro azione a favore dell'unità della Chiesa venne corroborata dalla testimonianza data con coraggio fino a versare sangue per Cristo. Ecco il Vangelo di oggi, lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo ma non lo vedrete. Vi diranno eccolo là oppure eccolo qui, non andateci, non seguiteli perché è come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo. Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore. Gesù ci ammonisce, egli verrà, verrà a giudicare i vivi e i morti ed il suo regno non avrà fine. Lo crediamo con certezza ma non dobbiamo lasciarci ingannare da quanti con prospettive falsamente apocalittiche ci dicono ecco che il Signore ormai è qua, sta arrivando, venite, seguitelo. No, egli verrà come la folgore. Dobbiamo stare pronti all'incontro con lui. Gesù ha però anche annunciato che è necessario che il figlio dell'uomo soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Questo è già capitato. Come l'ha detto, come l'ha profetizzato, Gesù ha sofferto per noi, è morto per noi sulla croce ed è risorto per la nostra giustificazione. Ecco allora che contemplando il mistero della Pasqua comprendiamo che anche noi siamo chiamati a partecipare alla sua sorte, al suo destino di morte e di gloria. I martiri Cornelio e Cipriano hanno partecipato a questa sorte in maniera piena perché hanno dato la vita per Gesù. Noi forse non saremmo chiamati a dare la vita col martirio, chi lo sa, ma certamente siamo chiamati a condividere il cammino della croce e a condividere l'amore di Cristo giorno per giorno. Chiediamo la grazia di avere questo grande coraggio per camminare dietro a Cristo, crocifisso e ritorto, portando la croce con amore. Preghiamo gli uni per gli altri e preghiamo per l'unità della Chiesa. Cornelio e Cipriano si impregnarono molto per difendere l'unità della Chiesa. Preghiamo per l'unità della Chiesa, preghiamo secondo le intenzioni del Papa, preghiamo per la pace. Vi ricordo anche che domani a Milano ci sarà la prima adorazione del cammino del cuore di Ocesano nella Chiesa di Santo Stefano Maggiore, domattina. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.